Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei le disse, Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide e suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò, colui che nascerà sarà santo, e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore E l'angelo si allontanò da lei.